bella tutti forniters benvenuti su fortnite festival andiamo a vedere di cosa si tratta andiamo subito a vedere un attimo quella panoramica classica abbiamo queste sono le tracce che possiamo suonare gli strumenti del weekend a strippella la chitarra sei corde delle tache tastiera nel negozio oggetti comandi predefiniti questi sono i comandi predefiniti per la tua piattaforma con personali personalizzarli a y le frecce laterali festival è qui è ora di salire sul palco pass serata di apertura di festival completa gli incarichi festival per sbloccare le ricompense del pass serata di apertura di festival a scadena in rift travolgenti con la gm altro del percorso ricompense che passa al percorso ricompense premio per 1800 vbac per sbloccare altre ricompense compreso the weekend e quindi andremo a completare eccoli qua mamma mia quanti sono gli incarichi tanti andiamo a vedere un attimo il pass del festival eccolo qua questo è tutto il pass del festival con la serata di apertura un sacco di incarichi schermati di caricamento e mot e quant'altro queste sono le note musicali dobbiamo arrivare a 11.000 queste sono le skin invece eccola qua la skin the weekend però dobbiamo sbloccarlo con il pass quindi qui include laura rock del dell'offenditore l'accesso al percorso ricompense premium per 1800 vbac quindi acquistando per 1800 vbac andremo a prendere anche tutti questi premi qua sotto altrimenti andiamo a prendere tutti questi sopra non ci sono i punti esperienza per lo meno da quel che vediamo in queste missioni ma soltanto le note per questo pass del festival che lo andiamo un po a riguardare allora per gli incarichi normali abbiamo una schermata di caricamento il brivido del palco mentre abbiamo il microfono di weekend quindi tutti i premi di weekend per le ricompense premium quindi andiamo a vedere prima le ricompense normali schermata di caricamento l'epic game traccia una traccia batter barn a down laura esplosione stellare quella che vediamo intorno al nostro personaggio take me higher un'altra traccia quindi si sbloccano delle tracce per poi fare altre canzoni l'emote equalizza un'altra traccia switch up l'emote alto volume un'altra traccia run it a 8.000 note a 9.000 note l'emote lama relax a 10.000 la traccia braids for chaos ea 11.000 la chitarra jam quindi questa dobbiamo andare a prendere assolutamente mentre per il pass diciamo speciale abbiamo il microfono della serie di icone microfono la schermata di caricamento non comune il ritmo martellante la traccia gemma isong now what you di dai il basso alta tensione quindi uno strumento la traccia gemma isong now style il basso xo la traccia gem poison la chitarra poltiglia a tocco la che è la traccia gemma branding lights laurea barra e salterine e the weekend lì con il costume stile fortnite da poter sfoggiare poi anche nella battaglia reale ma andiamo a vedere gli incarichi qui gli incarichi abbiamo anche qui incarichi giornalieri che ci danno dobbiamo suonare per cinque minuti fino a mezz'ora sul palco gemma poi ci sono le prove settimanali quindi fare dieci incarichi giornalieri affronta le gare qui no ok questo rock tracing prova fortnite festival qui andiamo a prendere subito due livelli abbiamo ovviamente dieci settimane quattro giorni per farlo suona sul palco il gem per venti minuti per andare a prendere fare 1200 punti per andare a prendere un livello qui abbiamo due fasi quindi presumibilmente due livelli ottieni stelle sul palco principale questi sono gli incarichi ci sono anche incarichi pie punti esperienza ma non ci sono punti esperienza sono sempre note musicali completa incarichi tonalieri ottieni stelle band con altri giocatori ottieni stelle con qualsiasi strumento ottieni stelle suonando canzoni nuove o in evidenza nel palco principale suona canzoni nuove o in evidenza e qui attiva l'overdrive ottieni stelle suona canzoni con la chitarra quindi qui abbiamo visto un po tutto questo pass del festival che è abbastanza bello andiamo a vedere un attimo su gioca possiamo riempire quindi giocare con altre persone io opterei per riempire se non avete amici e non ci sono mappe particolari c'è soltanto questa ma vede che è stra giocato 819 mila 700 persone stanno giocando mentre affego tantissime lego fortnite 1,8 milioni rock tracing 302 mila batterò io 6 quasi 700 mila e 325 mila nello zero build zero costruzioni quindi andiamo a vedere questo fortnite festival nei prossimi video qui ci vediamo ci salutiamo se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanella per non perdere i nostri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti